Ti ha insegnato bene. E cos'altro hai appreso da tuo padre? So leggere e scrivere egiziano. Che disordine! Buona fortuna! Vediamo un po'. Ma la pazienza è l'arma che ti aiuterà di più. Tu devi scegliere qual è la tua via. Non sarà semplice ma ci riuscirai. Per farlo usa tutta la tua energia. Tu devi scegliere qual è la tua via. A una buona annata e al tuo amico.